L'insonnia è un disturbo molto diffuso nella popolazione e causa la riduzione della qualità del sonno. L'individuo che ne soffre impiega molto tempo ad addormentarsi, nonostante il suo corpo ne abbia necessità ed è tormentato da frequenti risvegli. Quali possono essere i rimedi per questo disturbo? I trattamenti dell'insonnia cronica e dell'insonnia a breve termine possono essere farmacologici e non farmacologici. Il trattamento non farmacologico è da preferire poiché comporta minori effetti collaterali rispetto alla terapia farmacologica. I trattamenti non farmacologici possono essere CBTI, terapia cognitivo-comportamentale per l'insonnia, igiene del sonno, terapia di controllo dello stimolo, terapia di controllo temporale, terapia di restrizione del sonno, intenzione paradossale, stile di vita e approcci complementari. Per il trattamento farmacologico invece possono essere utilizzati la melatonina, la valeriana, la cava-cava, la camomilla, la lavanda. In alternativa è possibile ricorrere a farmaci come le benzodiazepine che agiscono rafforzando l'interruttore del sonno. Nel nostro portale www.medfor.care trovi tanti altri contenuti e approfondimenti. Viene a trovarci. a presto su matforcar.